Il Stato Presidente, con il Presidente, partiremo assieme perché con una grande squadra come Siviglia vogliamo creare un rapporto così come creeremo con le squadre, altre squadre di livello mondiale, in uno a un'altra cosa che è stato con loro, scambiando anche tutte la loro esperienza notevole e quindi anche sotto questo aspetto è un dato bello insomma avere a che fare con squadre di questo libero, che vogliono dialogare e interrompire con l'Atalanta di da soddisfazione per, o più o più o più o più, poi Alfa cresce tutto il mondo Atalanta, la famiglia Atalanta, la sede di Tindon, tutti i nostri personali, tutti i nostri cultori, tutti i manager che lavorano per condurre questa azienda, che deve fare spettacolo, deve dare spettacolo, ma soprattutto anche in modo di educazione, insomma, in metodologia e loro anche un bel esempio.